ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di around the table oggi apriremo insieme la scatola di un escape room da tavolo e non può essere unlock perché sono solo carte non può essere thexpcape perché anche in quel caso sono solo carte exit abbiamo aperto sia il libro sia una scatola del gioco potremmo provare con exit room di cranio creation e invece apriremo di cranio creation mystery house questo gioco di cranio creation promette di essere la prima esperienza in 3d per quanto riguarda le escape room da tavolo quindi non ci resta altro di che sederci attorno a quel tavolo e andare a capire in che modo questa può essere la prima escape room 3d da tavolo e allora andiamo a vedere nei dettagli questa scatola ora misteri house cranio creation avventura in scatolo di antonio tinto sulla costina vediamo che è un gioco da 1 a 5 giocatori da 14 anni in su cranio creation e sul retro vediamo entrate nella casa dei misteri salve del coraggio immergete un escape room più spettacolare di sempre una fantastica esperienza tridimensionale guidata da un'app di supporto ok vedete incredibili avventure una scenografia in continua evoluzione avete 60 minuti per esplorare la casa e trovare gli oggetti tutti gli oggetti gli indizi nascosti risolvere gli enigmi aprire porte su nuove istanze e completare ogni storia siete pronti a far luce sui re di questa misteri house i componenti abbiamo la casa il regolamento le scatole avventure ovviamente qui c'è la companion app non aprite quella porta ok vediamo pure un attimo allora gli autori allora l'autore è antonio tinto l'illustrazione sono di alessandro paviola e daniela giubelli giubellini ok poi il resto leggete da voi quindi questo è il momento preferito quello in cui andremo ad aprire materialmente la scatola abbassa un attimo l'inquadratura allora il cellophane come sempre va riciclato ok e andiamo ad aprire questo non mi piace tanto mi dispiace dirlo ma ogni questa scatola onestamente non piace in maniera particolare un po di problemi allora dico apertamente questa cosa a me non piace tanto questa tipologia di packaging per quanto riguarda i giochi mi rendo conto è un gioco un po particolare però onestamente lo trovo estremamente scomodo perché io sono uno che li trasporta i giochi vado in giro e questa scatola non la vedo per nulla protettiva ok quindi ci troviamo di fronte alla casa ne andiamo ad aprire anche questo caso con molta circospensione evitando di fare danni la scatola di per sé la andiamo analizzare più avanti qui abbiamo un supporto in cartoncino le due avventure anche queste le andremo analizzare più tardi i gel questi qua si mettono in macchina per evitare che le cose si appannino allora qui abbiamo il regolamento come sempre questi regolamenti delle escape room sono molto stringati la casa la panoramica del gioco i componenti sono pochissime pagine di regolamento allora questa ora chiudiamo per il momento che andiamo aprire le due scatole di avventure allora la prima è questo mi piace invece molto sembrano delle videocassette anzi sembrano effettivamente sembrano delle videocassette allora ritratto di famiglia un'avventura da brividi per misteri house qui spiega un pochino la componentistica non spiega la misteriosa casa dupont attraversato il tempo sofferenza due guerre mondiali ora è pronta a rivelare la verità sulla famiglia che li abitava cosa è successo e dupont quali terribili segreti sono portati nella tomba non saremo mai sole anche quando pensiamo di essere qualcuno ci osserva sempre soprattutto a casa dupont sembra dove le pareti sembra avere occhi abbiamo 33 carte luogo e 19 carte oggetto la difficoltà è bella alta quindi questa sarà la seconda avventura che faremo e quest'altra il signore del labirinto allora 42 carte luogo e 26 carte oggetto la difficoltà è di 3 su 5 alle soglie del mondo incantato vi notate in un labirinto pieno di tranelli incontrerete magiche creature dovete risolvere le rindopinelle per poter proseguire cosa vi attendete il prossimo angolo sarete in grado di raggiungere il cuore del labirinto per liberarne l'ultimo arcano segreto beh non lo sapremo vi apro questa piccola videocassetta dove troveremo queste probabilmente sono le carte luogo e queste le carte mistero un attimo rivediamo allora 42 carte luogo e 26 carte oggetto ok questo si tratterà di capire bene dopo anche in questo caso ripeto questo pack se il packaging del gioco di per sé non mi piaceva questo packaging che ricorda vagamente le videocassette anzi mi stavo dicendo questo mi ricorda una delle cose più fighe comprato l'ultimo comicon ovvero this is not a love song questo gruppo di autori ha creato dei ha fatto dei remake sotto forma di cartoline di film famosi in videocassetta ovviamente non c'erano delle videocassette e ho comprato star wars ma proprio star wars il primo star wars quello che tutti chiamano una nuova speranza e praticamente il packaging è molto simile mi piace moltissimo ma qua vediamo ci sono anche delle altre indicazioni sempre una cinque giocatori 14 anni 60 minuti ora andiamo analizzare la cosa più importante di sto gioco ovvero la casa allora noi attraverso abbiamo dei numeri no delle lettere k vediamo se riesco a inquadrarvele per bene ok k i m n o da quest'altro lato continuano tutte le lettere e qui abbiamo la nostra griglia qui andranno inserite le carte luoghi gli oggetti e noi dovremo guardare qui dentro per capire cosa c'è pensavo fosse molto peggio invece no questo questo chiamiamola questo sistema di gioco invece è molto interessante perché prima di tutto beh la parte superiore è solo cartone e forse questo è un piccolo grande errore da parte di cranio perché infatti vedete qui già si è rovinato io non praticamente qui non l'ho toccato mi sarei aspettato come minimo dei piccoli rinforzi sugli angoli e sulle cose anche perché come dicevo io i giochi li trasporto e quindi c'è molta possibilità che questo cartoncino qui non serva praticamente a niente e quest'altro si possa rovinare anche per esempio se magari prende una botta troppo forte qui è capace che si rompe quel cartoncino che abbiamo visto prima questo probabilmente serve a non far imbarcare il gioco e anche qui va andiamo un po meglio ci sono c'è un vassoio di plastica dove infilare le carte ma io mi sarei aspettato una cosa similare anche sopra uno stesso vassoietto magari per per appunto risolvere un pochino il problema della resistenza altra cosa che mi viene da dire che forse questo gioco necessita di alcuni upgrade che dobbiamo farci noi a casa prima di tutto è poco ergonomico perché questo messo sul tavolo o ci abbassiamo tutti quanti noi come nelle partite di crag morta quando vi dicevano di appoggiare il mento sul tavolo per guardare oppure dovremmo acquistare uno di quei di uno di quei gli oggetti che si mettevano sotto i televisori col tubo catodico negli anni 80 li faceva la meliconi quelli che avevano il supporto girevole per mettere sopra il televisore farlo girare sotto il videoregistratore perché mi sembra che questo gioco abbia bisogno di uno di quei corsi sulla sicurezza del lavoro non so se avete presente ho fatto uno quest'estate dove diceva quanta distanza dall'occhio dovrebbe rimanere il computer per un buon lavoro in un mondo perfetto sarebbe bastata la scatola protettiva diciamo in cui tu lo metti sopra qui ma sinceramente non regge cadrebbe dopo cinque secondi quindi dovete o andare negli anni 80 a comprare il supporto per televisore di meliconi oppure trovare un'altra soluzione la forza che aveva la so più semplice andare all'ikea e insieme alla 25 milionesima calax acquistare anche un altro uno di quei piatti girevoli per giocare io lo usavo per giocare a azul insieme al gioco mi hanno dato anche le flashlights io non so se era una promozione solo del gamestop oppure generale ma i ragazzi del gamestop mi hanno detto che tutti i primi acquirenti del gioco hanno in omaggio queste luci ho letto su internet io ero predisposto a giocare con la luce del telefono ma ho letto da qualche parte che non va bene la luce del telefono c'è bisogno della luce di una piccola lampadina questa è la piccola flashlight la torcetta no non c'è la pila ah no c'è la protezione vabbè io avrò intenzione di andare in uno di quei simpatici negozi cinesi a comprare questa pila ma diciamo la verità visto che ce l'hanno regalata la userò questa ragazzi questo è tutto ah due avvertenze io per quanto riguarda le scape room dico sempre le stesse cose secondo me bisogna giocare tutti dallo stesso lato del tavolo e bisogna anche non avere il non avere la sindrome del giocatore alfa e in questo gioco soprattutto dove bisognerà osservare le cose da questi da questi da queste feritoie la cosa potrebbe peggiorare quindi io consiglio sempre di giocare tutti dallo stesso lato del tavolo e tutti di guardare insieme magari oppure se si possono guardare contemporaneamente da più lati meglio e un'altra cosa consiglio sempre di giocare in meno possibili ovvero se in tre secondo me il numero per sé effetto per giocare le scape room in quattro diventa troppo confusionario perché se tutti quanti devono voler guardare le carte potrebbe risultare un pochino ostico giocare questo è quanto per quanto riguarda l'unboxing di mystery house fatemi sapere che ne pensate voi io sono un super fan di questi giochi super freak spero di giovarci al più presto e di farvi sapere come sono le avventure se effettivamente si possono vincere nell'oretta che prevede il gioco ma io sono anche uno di quelli che preferisce farsi prendere dall'avventura detto ciò vi invito a darmi un vostro feedback sia su mystery house che sulle altre escape room spoiler il mio preferito della serie di escape room è fondamentalmente unlock quello che abbiamo fatto di più e ovviamente scrivendomi un commento qui su youtube su facebook su instagram su twitter e ricordati e ci vediamo sempre qui sempre around the table e ora entriamo nella casa del mistero